La conta dei danni per la recente mareggiata è lunga. Stamattina siamo stati dopo aver visto ciò che era successo a Ponte Sasso a Sassonia di Fano o meglio ciò che resta della Sassonia di Fano che ora qualcuno ha già ribattezzato Sabbionia dato che di sassi ormai ce ne sono rimasti veramente ben pochi. Il nervo scoperto del nostro litorale è sempre quello, l'anfiteatro Rastat, le concessioni sempre le stesse che come anno scorso hanno pagato anche quest'anno un prezzo salatissimo. Anche quest'ultimo episodio tocca un nervo scoperto che fa saltare non solo gli operatori commerciali ma anche le associazioni di categoria come Oasi con Fartigenato che da diversi anni chiede la salvaguardia delle attività e dei posti di lavoro. Appello che sembra però essere anche quest'anno caduto nel nulla. Il circolo velico della Sassonia si trova in mezzo agli stabilimenti balneari. Fattività agonistica ed è un circolo privato ma la concessione la paga come gli altri e come gli altri ha avuto la sua scorsa notte 20 metri di arrenile devastato dalle onde e dall'acqua che è arrivata fin sotto le strutture che si sono anche allagate. Chiede ora per voce del suo presidente che le promesse dello scorso anno vengano rispettate e vengano mantenute soprattutto a riguardo delle scogliere. Il nostro circolo che esiste esattamente da 42 anni esattamente dal 4 settembre del 1976 che non ha mai visto una situazione come questa che sta avvenendo ormai da un paio d'anni. L'acqua è arrivata, le onde del mare sono arrivate fino al nostro ufficetto, al magazzino delle vele, delle attività che abbiamo e quindi siamo preoccupati. Speriamo che nel giro di poco tempo, diciamo tre mesi, sei mesi, si possa effettivamente avere un riscontro per le promesse fatte ma al momento non ancora mantenute. Mi auguro che nel 2019, almeno nella primavera, prima del periodo estivo, ci possano avere almeno un paio di scogliere, se non completamente tutto questo tratto di spiaggia tutelato, ma almeno quelle scogliere che ci permettano di fare attività e ovviamente siccome siamo tra i vari bagnini, tutelare anche loro, indubbiamente.